Zuppa! Oggi faremo una bella zuppa calda con tante belle verdure e poi metteremo anche dell'orzo patate, funghi, zucca e gambi di finocchio perché in casa bigiù di Rick & Mary non si butta nulla. Nel tegame ho messo cipolla e aglio, olio extravergine d'oliva e poi in mancanza del basilico aggiungo il pesto verde. Man mano metterò una dietro un'altra tutte le verdure, inizio dalle patate, proseguo con delle garote, man mano metto i gambi di finocchio, giro per bene e faccio cuocere un pochino queste prime verdure e poi andrò ad aggiungere la zucca, metto anche un goccino di vino, voi lo mettete il vino nelle zuppe, nella minastra no ma nella zuppa però di solito un goccino lo metto di vino bianco, peperoncino, poi aggiungo i funghi, la voglio fare proprio speziata questa mia zuppa quindi vado a mettere la curcuma e di seguito lo zenzero. Inizio ad aggiungere l'acqua pian piano, quanta mi basterà e poi metto un pochino di polpa di pomodoro. È tempo di mettere giù il nostro orzo, di solito metto l'orzo o il farro. La mia bella zuppa è pronta e ce l'andiamo a gustare io e Rick, calda in un periodo abbastanza freddo e quindi va veramente bene, ci riscalda non solo il corpo ma anche i nostri cuori e la nostra anima. Qual è la vostra zuppa preferita? Scrivetelo magari sotto nei commenti e ditemi anche come la preparate. Se ti è piaciuto questo video lasciami un like e se non sei ancora iscritto allora ti invito a far parte del mio canale i bijoux di Rick and Mary.